Posso? Oh, fatto! Posso? Vieni, vieni! Posso? Vai, vai! Posso? Vai! Buonasera! Buonasera! Sono 9 di mattina! Gli altri? Sono andati a viaggiare da un po'. Fuori? Non l'avevamo detto alle robe? Sì, ma di ieri. Eh? La riunione era ieri. Ah! Vabbè, comunque c'è una bella notizia. Faremo un'altra data con Cappuccetto Rozzo. Davvero? Sì, ma questa volta... Posso? Cosa? Sta a casa! Sono un po' stanco! Ma non si fa la mia ora, eh! E quanto? 12 dicembre 2022! E dove? Ecco appunto! Teatro Parioni! A Roma? A Roma! Grande! Quanto ci vuole ad arrivare? Tre ore e mezzo di macchia! Ma... Viene anche lui? Certo che viene anche lui! Posso! Fa parte del cast! Teatro Parioli! Roma! Indicazioni per Teatro Parioli! Roma! Posso? Vai! Posso! No! Accendili! Questo non è un cast! È un castigo! Non è un castigo! Non è un castigo! Non è un castigo! No!